per riconosci nella presentazione di questo luogo è l'articolo Panetta, che è uno dei progettisti e direttori dei lavori che prevede lei di avvicinarsi per raccontarci qualche modo di questo progetto. Poi ci sono altri apitecchi che abbiamo lavorato dalla parte strutturale iniziali, dalla sicurezza, perché è un lavoro che deve portare a terra in questo lavoro, ovviamente, sui campi difficili. Molti di voi, probabilmente, non si ricordano come era questo spazio che sono molto curioso, sono l'uomo all'interno che sto soccando ma non lo conoscevano, non lo conoscevano, non lo conoscevano quindi il lavoro principale è quello di demolire questi volumi nel posto a restituire il giardino, come il progetto è una volta che è stato riscritto argomentemente da Ambrosio e dall'elemento, diciamo, minorizzato in questa facciata nuova che è in parte che si costruisce il quarto lato del porto del piostro così si riconforme il piano del piostro diciamo, ovviamente, anche nel prato c'è una straccia lì del interno composto che è una linea di sistema, il piano del piostro e il volume poi della versione mondiale è stato demolito da questa posizione che si la può, diciamo, interloccare un piano nel secondo piano che era la norma del complesso e diciamo che qua sono stati demoliti quindi 500 metri di volume sono stati costruiti soltanto 900 quindi siamo andati a portare sotto l'azione perché molte volte stazionare la vita e quindi c'è l'identificare in parte che qua abbiamo eseguito degli spazi diversi tra l'autore di l'Italia a Parogia, al Comune e che poi è legato appunto al complesso di un bel ostino alla nostra biblioteca che è stata realizzata in qualche anno fa e non basta dire a chi è che è un po' che è un po' che è un po' che è un po'